Il 24 aprile 2009 veniva inaugurata la prima linea fino ad Albino. Dieci anni dopo la città di Bergamo ha festeggiato questo traguardo con un convegno dedicato alla presenza del tram nel centro aerobico nel quale si sono snocciolati i numeri di questi due lustri di servizio e si è guardato anche al futuro ma soprattutto con un'intera giornata di festa a bordo dei mezzi. È cambiato in meglio, ha cambiato la vita dei cittadini bergamaschi perché ha offerto loro una nuova modalità moderna, pulita, rapida per muoversi lungo la direttrice della Varseriana che è una delle direttrici più importanti nel nostro territorio. Sì, ci sono stati diversi aneddoti in questi dieci anni. Una signora anziana chiedeva al conducente per esempio nei primi giorni d'esercizio di deviare il tram in direzione dell'ospedale non percependo che il tram era in sede fissa e quindi non poteva comportarsi come un autobus oppure quel pensionato che vedendo la realizzazione dell'intervento e vedendo la posa delle rotaie sul ballast rendendosi conto che era più basso mi telefonò dicendomi che lì si stava facendo un errore e quindi non capendo che c'era un problema di rincalzatura che avrebbe risolto il problema. Oppure quando ci fu l'evento della donata degli alpini ci fu un gruppo di alpini che voleva far salire un asino sul tram per portarlo in città. Insieme a questi aneddoti diciamo simpatici ci sono stati anche degli eventi importanti in questi anni che hanno visto diciamo la TEB protagonista il rapporto per esempio con le scuole in particolare con il liceo artistico per dipingere le fermate lungo la linea che ha coinvolto tantissimi ragazzi con dei ottimi risultati il fatto che i comuni interessati al servizio via via hanno apprezzato sempre più questa infrastruttura e stanno cominciando a coordinare per esempio alcuni servizi sociali mettendoli a disposizione uno dell'altro proprio utilizzando il tram come elemento di coesione e di connessione fra le loro realtà. Abbiamo a fini statistici noi monitorando il servizio possiamo oggi dire che in questi dieci anni sono stati percorsi quasi 6 milioni di tran chilometro da parte dei 14 tram a nostra disposizione e sono state trasportate più di 33 milioni di passeggeri nel corso di questi dieci anni. Il tram ha dato un contributo fondamentale a tutto il sistema della mobilità che TEB e ATB gestiscono nell'area metropolitana di Bergamo. Gli scenari della mobilità del futuro nelle valli bergamasche vedono al centro il tram, infrastruttura accessibile, sostenibile, utile, integrata, connessa e generatrice di valore patrimoniale, sociale e di sviluppo urbanistico territoriale. Il prossimo passo vedrà la nascita di una nuova linea fino a Villa Dalmè. Ecco, siamo proprio in una fase di ideazione di nuovi progetti, di nuove linee, in particolare abbiamo presentato al Ministero dei Trasporti alla scadenza del 31 dicembre 2018 il progetto di fattibilità tecnico-economica per la seconda linea, cioè quella per la Val Brembana, altri 11 chilometri e mezzo di linea, altre 17 fermate, in modo da integrare entrambe le valli con l'area metropolitana di Bergamo. Confidiamo che il progetto venga approvato e venga finanziato per la quota di pertinenza del Ministero e siamo pronti a partire con lo stesso spirito di dieci anni fa per quanto riguarda la T1. Io sono convinto che ci sia un futuro notevolissimo a Bergamo per quanto riguarda il trasporto pubblico elettrico e su tram, perché gli scenari di cambiamento della mobilità ci dicono che lo sviluppo delle dorsali sarà uno degli elementi fondamentali del trasporto nei prossimi anni e noi come TEB stiamo cercando di dotarci tutti i progetti necessari per essere pronti per questa situazione. Come ha cambiato il tram, il trasporto pubblico locale a Bergamo? Il tram l'ha cambiato diventando la prima linea di trasporto pubblico di tutte le 70 linee provinciali ed è diventata la linea che ha margini di crescita sia in termini numerici ma anche in termini di servizi che può offrire evidentemente maggiore di tutte e quindi noi pensiamo adesso di sviluppare la seconda e poi forse anche la terza. Dieci anni fa iniziava quindi l'avventura del tram a Bergamo nel segno della lungimiranza e di un approccio innovativo al trasporto pubblico locale che a distanza di così tanto tempo mantiene la sua visione moderna e la sua impronta ecologica. Direi che l'idea parte ancora prima di quando io diventé presidente nel 2000 partì con l'amministrazione provinciale di cui ero presidente partì con l'impegno della regione Lombardia e dovemmo dare, diamo merito al sindaco allora di Bergamo, Veneziani dal presidente della provincia di Bettoni di avere con coraggio affrontato questa novità che era non solo una novità per Bergamo ma anche una novità per la regione Lombardia e da quella iniziativa partì tutto l'iter che è favorito anche da una legge la legge del 211 del 2002 che dava la possibilità di finanziare opere di questa natura. Senta oggi, dieci anni dopo, la terza linea secondo lei è un sogno o è una possibilità concreta? Io direi che la terza linea deve essere assolutamente fatta e vedo con grande piacere, con grande entusiasmo che anche il presidente attuale ha la stessa volontà e la stessa capacità di movimento che è stato un po' quello che ha spinto noi, i nostri consigli, i nostri tecnici a partire con l'iniziativa di dieci anni fa.